E chi mi si fila a me? Forse è la posta Guardiamo Sono proprio sfigata Nessuno mi vede Nessuno mi cerca Nessuno mi segue Sono trasparente Uno zero Un niente Un'occhiata a Facebook Beh qualcuno potrebbe Forse pochi secondi fa Niente Sono trasparente Uno zero Un niente Un'occhiata a Facebook E quali un'occhiata a Facebook Salute Un'occhiata a Facebook Alcuni Il Ă impressione e io io ecco signore ecco le centinaia le migliaia i pecorelli bianchi in questa settimana i sognatori sono contenti li conti ci sono delle pecorelle sono poche solo tre tre ma e questi? mago de los sueños ah soltanto due followers nemmeno un logo è una moda del momento quel batu piuttosto quello il conosciuto zitta pievato ecco mi è batu è di origine orientale è un tapiro primordiale batu è un tapiro non fa male lasciamolo bibacchiare e presto sarà noi a sforgiare ci sono io indietro al capri vitico alle scendone di sonni la fonda sono sforzi incredibile grandioso è bellissimo termina grande unica e un padrone unico perfetto insuperabile padrone di questa fabbrica molto bene molto bene ecco la cava per il giro e ognuno ecco la cava che cosa vogliono questi umaniani un sogno sogniereccio ma sono tutti sognierecci che discorsi qui non serviscono sogni scelti o sogni volgari ma anche i desideri più spinti escono vogliamo amare un sogno arcobaleno un sogno conturbante come sarebbe un sogno conturbante e quellele tre pecorelle nele svampita e solo sarebbero delle pregoste proteste tre pecore di protesta a me c'è insulino da dove vengono? da qui da questa stessa fabbrica via 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 Se può fare il più trasgressivo degli intendenti. È svantita se quando ti guarda con atti innocenti e distratti pensaste invece qual è che schiaffi? È vita, la sapientona. Lei è stato troppo. Per fortuna ci sei tu. Bella sedia. Per un resto la sedia nel capo, sì. Il potere è una gran cosa, certo l'uomo è divinita. C'è un passo che vede di meglio essere potenti, perché sono quanti e per chi non voglio mangiare. Dice Dio, lui è valuto. Chiunque altro non è nessuno. Compartendo un e giusto, ci vede, 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 ci vede. Da vede, ci 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 vede, di più ordine e di più, ci vede, ci ha dette, ci vede si e facebook, ci vede. di milioni, 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 credere è una cosa che al suo lucro è di dotare. Questo è il messo! Come è il mio? Buongiorno, Master Gervino! Dormito bene? Allora, cosa devo incidere sull'insegnere la sua fabbrica? Ah, ciao, il mio messer taglio, ho appunto un conico al mondo che lavora gratis. Allora, dovete incidere, ditta sogni di Mastro Gervino, padrone assoluto! 4S7T, mi raccomando, eh! 4S7T! Però, io devo scoprire i colpevoli, li coglierò con le mani nel sacco! Ma, ma dov'è il sacco? Devo trovare assolutamente il sacco! Non ho mai visto il padrone della fabbrica così agitato! E cosa stiamo comportando? O non ha fatto colazione, o è fuori come un balcone! Ha ha! Gli cazzoni di Mastro Gervino! Ehm ehm! Se no, per un attimo pagare un sacco in sole! Io vado a lavorare, ogni partenza in fiare! Ehm 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 ehm! Ehm ehm ehm! 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 Ehm da cosa cominciamo? La sede la sede! Da cosa cominciamo? No? Direi vista la ricetta! Sì giusto! La ricetta! Sbampi da la ricetta! Ehm ehm! Dove è finita la ricetta! Ehm ehm! Generica come al solito. Prendere un desiderio, rotto o crudo non dice, grattugiare un vero quotidiano reggiano. Quanto quotidiano? Grattare il sogno e sbrattacato nel giorno. Ah sì, aggiungere un pizzico di traumi infantili, che sarebbero noi così quelli dell'infanzia. I traumi infantili sono spaventi e sconvolgenti. C'hanno come un solato sognatore e, convinto di non essere capito, li hai nascosti in fondo al corpo prendoli con qualcos'altro. Sì, sì. Simboli vari, un archetipo, paure, quanto basta. Manca di più. Aggiungere qualche stimolo sensorio esterno. Eh, sti stimoli sensori li conosco benissimo, ma sarebbero no. Sì, sì. Gli stimoli sensori sono delle sensazioni che sentite. Mentre stiamo sognando, se le inseriamo dissimulate non ci fanno svegliare. Ah sì, sì, ho capito, ho capito. Ma a che servono sti sogni? No, io non l'ho mai capito. A proteggere il sogno, no? Ecco, stai vendendo, lo stimolo è troppo forte. È tutta colpa tua, sei un incompetente. Vita, guardami negli occhi. Chi ha postato le pecorelle? Le pecorelle? Sì, le pecorelle. Le pecorelle. Vita, le pecorelle. Sì, sì, sì. Sì, sì. Ah, è tutta colpa tua. Sei licentiata. Ah, è lei la vera nemica. E se mi facesse svegliare sfampita? E se mi fa pensare o disobbedire censurino? Io perdo tutto il potere. E mi trattano da zerbino. Ma tu vuoi? Ma che ti serve questa nuova quartivella? Lo sai che per entrare in un sogno bisogna sapertirti. Oh, sei l'archerico e mi sei migliorata ieri. Guarda. Assolutamente in serietà se entrare in un sogno non aspettano i figli di ogni giorno. E voi? Chi siete? Ti prego sfampita in un sogno e faccia entrare. Abbiamo bisogno di lavorare. Ma chi siete? Ah, gli archetipi dei siam. Ying. E yang. Di donna. E uomo. Ying. E yang. Nei sogni è tradobbiamo. Cambiare voi, no? Possiamo. L'archetipo moschilo yam. E quello femminile? Ying. Attivo. Passivo. Creativo. Ricettivo. Vigoroso. Faricoso. Caldo sole. Frida luna. Ma insieme noi creiamo? Energia. Mamma mia. Che energia. Ho capito, ma conoscete il nostro Zerbino? Anche noi che siamo qui per secoli siamo per cari. Ma per te non facciamo meno di patroni, Mastri Zerbini? E ci sono io, sei po' fai. Facciamo rilavorare questi due poverini. Forza, andate a fare vestibili per compariare il prossimo sogno. Sì. Oh, grazie. Hai un mio sogno senza padrone? Beh, è così brantolone. Non le vuole mai bene niente. E diciamocelo, non hai quel competente? Sì, ma lei ce le stesse sogni. Con dita? Ma appunto. Ma ci fosse dita? Chissà come le riuscirebbero male. Ma un più detenzionale. O meglio, un grande paio di occhiali. Sì, questo è vero. E' bravo a indovinare i bisogni. E noi, senza nostra esperienza, non potremmo fare tre imparati? Beh, se non sbaglio, per l'ultimo sogno, si inizia da l'armazzo del povero. Ma non ce l'ha preoccuparti. Ho qui... La chiave! Fa un bel gioco! Non mi ha fatto la chiave! Ehi, tu, vado la lì! Aiuto, che c'è la piccola! Forchi, matta? Non porto proprio. Beh, sono claustrofobia. Stai qualche ragno in giro! Ah, finalmente posso uscire! La vita è bella di una bambina! Ma non è claustrofobia, non scudire! Non è come me, non ho paura di partire! Forza, carnera, assumete qualcosa! Paura del buio, come sei noiosa! Chiedete quella porta, non sopporto la luce! Fotofobia, non fare di senza! Chiapato! Cosa? Che tu chiede? Aiuto! Proprio tu! Stai a paura di tutto, vuoi venire? Sì! Vento! 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 Dettaio, come senti i denti, mi sono le vostre denti! Vediamo un po' di mano. Accidenti, basta la paura della libertà e non te la risposta a prendà! Saranno già scappate! Ci pensa a Tensurino, taglierà la strada e le catture! Presto, andiamo a fare giusto dei desideri! Giusto, giusto! La chiave è la stessa! Se qualcuno lo ha aperto, ci sono voi grossi! Spontità, l'apporto! Aglio sposto, spontità! Forza, il numero 91 continua a causare, vuole l'apportare, mi fa venire un gramma di testa! Oh, non capisce! Arrivare fino a lui è troppo faticoso! Troppo faticoso! E, stai finito, tu torna a masticare! Però, potrebbe contare le pecorelle che soffri di distogna? No! Non se ne fanno! No, e poi no! Ma, per favore, è solo per questa volta! No! E guai se ne organizzate una rivolta! Se lo devo ripetere, un'altra volta! Allora, aglio lui! Però, anche i desideri, premo di non riuscire, e sono tanti, sono belli! Oh, poveri noi, se sfondano i cancelli! No! Non se ne fanno! Adesso di no, e fanno noi! Pò! Veramente, ma, sorgerbino, i desideri sono il fondamento dei sogni, con un adeguato attraversimento, dicendo in vita! Allora, io ti darò il licenzio! E poi, decido io quante desideri devono lavorare! Gli altri, a spasso! A spasso! E se le paure sono troppe, lo sapete, poi rimano gli incubi! Quando volessi insinuare, che non so fare il mio lavoro, c'è il suino! Vieni, c'è da chiudere una bocca, un bavaglio, un tappo, un taglio! Un taglio! E poi ti vi racconto io! Ah, sì! Questa è la risposta che un dipendente deve dare al suo padrone! Cioè, un suino è più d'ingente, non c'è baragone! Ma tu! Cosa fai ad entrare qui? Fuori! Immediatamente! Vado? Con permesso? Sì, sì, basta che te ne fai! A che? Sì! Sì, anche i suoi! Stanno cadendo tutti nella mia trappola! Ma, dove è finita la lucetta? È la mia sedia! Permesso! Dov'è la mia sedia? Dov'è la mia sedia? La tua cosa? Sì, sì, subito! Desi dei? Solo alcuni! Numeri? Basta l'uno! Quello sono io! Voi, potete soltanto sognarvelo! Oh, Marco Sardino! In un sogno voglio diventare il numero uno! Voi, potete soltanto sognare il numero uno! Dov'è, potete... In un sogno! Sì! E' un sogno! In un sogno scopo! Che cosa faccio? La cosa faccio? Poi lo faccio! Dov'è la mia sedia? Dovevo vincere il capo! Essere il migliore! Dovevo ovunque spiegarci, chiunque superai! Il meglio, il super, il numero uno, che partita, voglio essere il suo, non ce la faccio più. Grazie per la visione! 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 E tu? Cosa fai ancora qui? Ti ho licenziata! Spanisci! E i sogni? Senza di me? Come li allestisci? Straditrice! Io non ho bisogno di nessuno! Io sono il numero uno! Tu stai per te in ovaniera fabbrica dei sogni, della tua donna che si può te! Tu sei la mia rovina con tutto il tuo sapere! Desiderio di essere comandato? E ti sia la dire! Questo credoowned in fantasy! Tempe dimosetto! Awesome! Tempe dimocchi! Patroniva di L'alimbété! Anце la scris slide Il coso di questo conforme è spesso di tutto il peccato cicatine! Passo che era un po Josh! Si suonita di V additive! E adesso, carissimi sognatori e carissima vita, ecco a voi l'incubo pulino, l'incubo che immobilizza, paralizza, l'incubo caputo, avrà il contene su tutto, avrà il potere assoluto. Il suo potolino è capace di trasformare il sorriso nel chigno pioglioso, il suo potolino è capace di trasformare il filo nel son pietrino. Voi, se volete tornare a sognare come prima, postate le pecorelle bianche. Mi dispiace, figlia, mi dispiace molto. No, voi non mi dispiace così tanto. No, voi non mi dispiace, figlia, mi dispiace. E' un altro. Ah! Signatori, con il mare di Mastro Dervino? No! Ragazzi, aspettate! Qui c'è la scatola degli ok Dervino e io conosco la password, adesso l'apro. Accidenti, non succede niente! No! Mi dispiace! Ma dai, impossibile! Sei sbampita! 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 Dervino! 6, 1, brusco! Chi dici? Non c'è il padrone! Pro! Zeta, sei, uno, F7! Ah, che vogliamo fatta! F7! Ok! Io vi doverò su tutto! Ahahah! C'è il doppio tempo! Ammirate! Ammirate! Adesso c'è una zeta, zeta, zeta! Io sono bello, io sono morto! E' una storia nuova! Ma sono bello! Ah! Robasso! Casodino è proprio malato! Bene! Ci resta soltanto una carta da giocare! Soltanto basso! Tagli incumi! Ci può salvare! Ma che? Basta! Divorare incumi! Ah, tanto! Seguimi! Eh, 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 eh! Vieta, figlio orientale! Tranque di tigre! Corpo di orto! Fai sentire agli incubi il tuo morto! Cosa di bue! Cosa di bue! Occhi di rinoceronte! Libera dagli incubi il nostro orizzonte! Cosa di bue! Cosa di bue! Cosa di bue! Cosa di bue! E' arrivato! Se gli auguriamo un buon appetito, ci sta vantaggio e garantito! Ora adattavolo solo con servino! In fondo con la sua idratrice del potere anche lui è diventato un incubo! E adesso che ho conquistato la mia fabbrica e sono il padrone assoluto, andiamo alla conquista delle altre fabbriche dei sogni! Ma chi? Tu chi sei? Ah, ho capito! Madro dello sueños! Allora! Allora lui e Baku! Avanti via i brodi! Facciamogli vedere chi siamo! Oh! 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 Volete tornare a sognare come prima? Si! E allora avanti! Oh! 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 E' magato! Ti l'hai mangiato? Ma che ti sei mangiato, Giuseppino? No, 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 no! Aiutatemi! Io non sono un incubo! E' un'ora che hai diventato! Prepotente, allontate, prendetele cosa vorrà! Apigolo! Va bene, va bene, basta così! Bacu, ridacci il giardino! No! Spuntalo fuori! Spuntalo! 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 Uno! Due! E' scherzo! E' scherzo! Sì! Sì! Grazie Bacu! Adesso ce la possiamo cavare a fuori! Sì! Grazie zi! Grazie zita! Sì, grazie! Grazie ragazzi! Ma io! Io resto il padrone! E ora mi do una lezione! Ehi padrone che non eri! Dovevi fare un'associazione! Poi... Guarda! 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 Cominciamo dalla ricerca! Ma dov'è finita la ricerca? Sta! Pesca! Non la trovo! Cominciamo con le paure! Se non serve la chiave... Stiamo! Da! In sta maniera! Ah! Vediamo! Cominciamo! Cominciamo con i desideri! Sì! Oh! Ma quali i desideri? E i numeri? No! Aiuto! Quelli vogliono contare più di me! Visto! Da quello non si può! Oh! Povero me! Nessuno mi fa più comandare! Nessuno mi vuole più ubbidire! Ehi! Ehi! Sapete cosa facciamo adesso? Se non fa il bravo? Noi chiamiamogli... Paolo! 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 Ma quindi... Il complotto? La congiura? Eh! Solo paura! E va bene! Avete vinto! Facciamo come volete voi! Ma com'è che volete? Dai! Parla zitta! Invece di suggerire solo le doghe e qualche ingrediente! Un sogno intero vogliono uscire! Così so come va a finire! Eh! Lavoreremo con più creatività e ricordate! Ecco! La scuola è famigliato! Ha sentito bene? Sì! E questa non insegna! Sì! Con le sede! Facciano un lampo! Ci fa perdire! Sì! Allora che facciamo qua? È un verbo! Allora che i confide qui! Allora... Ander ci! Ah! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.